Sciaccomaneggenti Vi racconto di Eva, la prima donna. Ma non la prima donna del giardino dell'Eden. Eva, la prima donna del giardino botanico di Casteddu. Perché Eva, anzi Eva, chiamata Evelina Luigia Giuliana Mameli, vi dico su nomini, è stata la prima donna in Italia a insegnare botanica in una università. E soprattutto per me, la prima donna ha fatto a direttore di un orto botanico, quello di Chiagliari, dove io ho lavorato a partire dal 1926, quando è arrivata lei. Io avevo 17 anni, lei 40. Vi confesso una cosa. Quando è arrivata, io e i miei colleghi abbiamo pensato ma itta ci vai, è una vemmina in noi. Questo è lavoro da uomini. Ora mi vergogno, mi vergogno davvero di quello che pensavo. Ma dovete immaginare, abituati a vedere uomini nei posti di comando, quando mai un direttore è donna dell'orto botanico. Ebbene, dopo poco abbiamo visto come lavorava. Affrontava i problemi. Li risolveva. Sapeva trattare con noi. E la prima cosa che ha fatto è voluto andare in giro all'orto botanico a vedere tutte le piante, tutte le attrezzature, i libri contabili e ha fatto comprare una scala alta 4 metri per le potature. Chi nociviera. Un tubo di 25 metri per irrigare. E l'acqua l'ha fatta prendere dal pozzo romano che lei stessa ha fatto riattivare dopo anni, forse secoli, che non funzionava. Ci siamo subito resi conto di questa donna, della sua intelligenza, della sua bravura. Ne sapeva troppo di piante, di vermi, di insetti, di uccelli, di muschi, di funghi e non che ardolinevezza, ma funghi di quelli che usava guardare con custodarinante al microscopio. Guardava questi funghi microscopici che vedeva solo lei, non li aveva mai visti. Mi ha fatto scoperti anche su quello. E i liccheni, i come si infuogava per i liccheni. Dovete sapere una cosa. Io da lì ho imparato a prendere nota di tutto. Mi sono segnato una cosa che ha detto sui liccheni. Asinunca mi da scarescio. I liccheni hanno sempre attirato la mia attenzione. Forse lei sentivo un poco simile a me. Perché specie pioniere, abili nel preparare il terreno a chi verrà dopo. Capaci di vivere in condizioni difficili. Pioniera via Ravuruissa. E noi la chiamavamo, lo sapete come? La chiamavamo Sabotanica. Sempre con grande rispetto e ammirazione. Aveva fatto comprare anche un'altra cosa, mi sono ricordato. Un asinello, un umolenti. Un umolenti serviva veramente nell'ortobotanico per portare pietre e tronchi da una parte all'altra. E poi si interessava anche ad altre cose. Oltre i liccheni, che tra l'altro ha scritto la voce per l'Enciclopedia Treccani, che trovate tuttora. Si interessava anche ai nomi delle piante in un modo, ah me lo sono scritto anche questo, che voleva scrivere un libro che si doveva intitolare Poesia, umorismo, realismo nei nomi volgari delle piante. Ora, se io vi chiedo, che cos'è l'Ecchino Cactus Govoni? Chi è che lo sa qui? Vediamo, qualcuno lo sa cos'è? Nisciuno. Ma se io dico, Cuscino della Suocera, chi lo conosce? Lo conoscete tutti. Perché il nome è volgare. Oh, volgare non perché ci sono parolacce. Volgare perché è del volgo, dei saggenti. È volgare, si fa capire. E a Eva piaceva molto questa storia dei nomi, anche perché le viaggiava molto. E viaggiando sentiva e confrontava. Primo viaggio, quando il babbo è andato in pensione, è venuta con tutta la famiglia da Sassare a Chiagliari. Vedi questo viaggio. Venuta a Chiagliari, si è iscritta all'Istituto Tecnico Martini. e Dinghiri, un'altra volta la prima, la prima femmina a fare quell'istituto. Prima erano tutti maschi. L'Istituto Martini, dopo il diploma, si iscrive alla Facoltà di Scienze della Regia Università di Cagliari. È appena 19 anni, licenza in matematica. Poi si iscrive a quello che gli piaceva di più, scienze naturali. Ma cosa succede? Succede questo. Nel 1905, il fratello Effisio, chi vi era un chimico di fama internazionale, un personaggio, uno che poi dopo qualche anno aveva fondato il partito sardo d'azione con Emilio Lussu, cioè uno non da poco, che a Pavia era docente universitario. le scrive Cara Eva, qua si studiano cose importanti. Si studia, per esempio, la peronospora della patata. Voi lo sapete che cosa è la peronospora della patata? La peronospora della patata è una malattia che ha fatto una carestia 50 anni prima, in Irlanda, che ha ucciso due milioni di persone e un milione emigrati in tutto il mondo dall'Irlanda per la carestia che ha causato. E siccome a Eva queste cose, queste cose la colpivano molto veramente, prende e parte e va a Pavia con la mamma, il babbo era morto, e vanno a vivere da Effisio. Così lei continua l'Università di Scienze Naturali a Pavia. Poi, nel 1918, siamo ancora nella Grande Guerra, visto che a lei piaceva fare tante cose, si iscrive a un corso per infermiere della Croce Rossa e va a fare la volontaria in un ospedale di Pavia, un ospedale di Ghisleri per i malati di tifo e non si guadagna due medaglie per questo, medaglia d'argento dalla Croce Rossa, medaglia di bronzo dal Ministero dell'Interno. E' veramente una persona eccezionale Eva, eh. Eva Mameli era una persona eccezionale. Poi, aveva iniziato, dopo la laurea in Scienze Naturali, a lavorare come volontaria in un laboratorio a Pavia. Laboratorio critogamico, eh, mi direte, ma è tabollina critogamico? Quello che studia le malattie delle piante causate da piccoli funghi e da batteri. E lei si metteva col microscopio e faceva quello che le piaceva di più. Guardava col microscopio, prendeva notte, si confrontava con altri, insegnava, e quando prendeva notte, capiva che qualcosa non l'avevano ancora scoperta. Le tirava fuori degli articoli scientifici. E non è che uno si sveglia e scrive un articolo scientifico. Si deve confrontare con altri, ci deve essere qualcuno che gliela approva, vuol dire che deve andare bene. E lei ne ha scritto tanti, io penso più di cento, questa donna. Il primo articolo l'aveva scritto quando ancora non si era laureata, mi sono scritto il titolo, di alcune specie e varietà del genere fumaria, nuove per la Sardegna. Questa pianta per noi è erbacea, noi la strappavamo sempre. E lei non è andata a scoprire del valore anche in queste piante. Intanto ne ha scoperto alcune che non erano ancora state scoperte. Poi ha scoperto il valore della pianta, cosa che noi buttavamo proprio, in sumurtonaggio, proprio una donna eccezionale. Poi vi ho detto, 1907 si laurea. Poi arriva, dopo che ha fatto tutte queste esperienze nel laboratorio critogamico, 1915, uno dei suoi risultati più grandi, diventa la prima donna italiana con la cattedra di botanica. Oh, questa volta è arrivata a seconda, la prima donna italiana con una cattedra, era un'altra che lì conosceva anche a Pavia, ma lì è arrivata a prima come insegnante di botanica. una donna veramente eccezionale e prosegue questa sua carriera scientifica. Poi un giorno, un'altra cosa ancora più incredibile, arriva una lettera, aspetta che me la sono scritta. La lettera diceva, le sue osservazioni sulla nutrizione delle piante, sulla fotosintesi, mi hanno impressionato. Questa lettera era firmata a Mario Calvino, che vi era un agronomo di fama internazionale, che lo chiamavano all'estero per andare a fare l'agronomo, a migliorare le coltivazioni in Messico e altrove. Questo chiede a Eva se voleva andare con lui in un'isola dei Chiaraibi a fare che cosa? A fare lui l'agronomo e lei la botanica. Partono perché? Perché lei decide di accettare. Cioè voi direste, ma vi era macco gusto, perché va da una e le propone di andare lontano da Pavia, stiamo parlando di un'isola dei Chiaraibi, e poi le dice, visto che andiamo insieme, magari ci possiamo anche sposare. E questa, direte, ma Caburuissa, questa accetta. Ha accettato. Hanno deciso di partire insieme, si sono sposati, 1920, sposati a Pavia. Da Pavia vanno in Inghilterra, dall'Inghilterra prendono una nave, arrivano a Nova York, e da Nova York se ne vanno in quest'isola dei Chiaraibi, Cuba. Direte, pittico sul viaggio di nozze. Eh, bella luna di miele, ma poi inizia un lavoro intenso. Lì cinque anni, che fanno? Lui l'agronomo, lei la botanica, e spiegano a tutti i contadini di Cuba come migliorare la coltivazione della canna da zucchero. Ricevono centinaia di lettere dai contadini. Tra l'altro in spagnolo, lei non conosceva lo spagnolo, l'ha dovuto imparare. Eva e Mario fondano riviste di agronomia, scrivono articoli sulla stampa locale, partecipano a conferenze. Poi lei, che era attenta a tutto, Eva, si accorge che le ragazze erano quasi tutte analfabete, e non tira su una scuola per le ragazze, le moglie degli agricoltori, le figlie degli agricoltori, fa un lavoro eccezionale, che dura cinque anni. In mezzo, cosa fanno? Vanno a vedere l'ortobotanico di Rio de Janeiro, l'ortobotanico di Nueva York, addirittura vanno a vedere l'ortobotanico dell'Università di Harvard, Emina Rasnuda. Poi, nel 1923, nasce il primo figlio, Italo Giovanni. Continuano questa esistenza, e lei, scienziata, botanica, raccontava quello che faceva, si confrontava, moglie, mamma, un sacco di cose, decidono improvvisamente di ritornare in Italia. lui, Mario, riceve una lettera che lo invita a ritornare a Sanremo per lavorare in un centro sperimentale di fioricultura. Accettano, lui diventa il responsabile agrario, lei la responsabile della botanica, e così partono da Cuba e ritornano in Italia. Per loro questo è un periodo bellissimo per lei e per il marito. Prima a Cuba facevano quello che a loro piaceva di più. Lei diceva sempre che la scienza deve aiutare il progresso, deve far star meglio la gente. È quello che faceva. Lì a Cuba e poi quando sono ritornati a Sanremo. Poi fanno anche altre cose. Fondano la società italiana Amici dei Fiori. Fondano la rivista Il Giardino Fiorito che diventa celebre in tutta Italia e hanno una rubrica in cui ricevono lettere da tutta Italia. Da questa rubrica è venuto fuori un libro che hanno pubblicato nel 1940 250 quesiti di giardinaggio. Ve ne dico due. Quali alberi sono indicati per terreni acidi? Una lettera che arrivava da Chiagliari. Albero di Giuda e Bagolaro è la risposta. Altra lettera da Torino. Qual è il pH più adatto ai crisantemi? Risposta 6,5. Ma un'altra delle cose che colpivano Eva era anche come difendere le piante con gli uccelli. Direte come è possibile? E mi sono segnato questo. Lei un giorno aveva detto ci sono uccelli come la cincia che per allevare i suoi 15 pulcini catturano 25 milioni di insetti. Ecco perché odiava la caccia spiegava a tutti come difendere nel giardino gli uccelli. Aveva scritto un libro per bambini in cui aveva messo degli esempi per costruire dei nidi per salvare gli uccelli. E poi dopo tutto questo sembrava tutto rose e fiori arriva la seconda guerra mondiale. Periodo brutto. Brutto anche per loro. Problemi molti risorse poche libertà ancora a meno. E per non farsi mancare nulla dato che erano generosi e aiutavano tutti ospitano a casa loro ebrei perseguitati politici partigiani e in più i figli cosa fanno? Dopo l'8 settembre 1943 vengono chiamati i ragazzi nati nel periodo in cui era nato il primo dei loro figli Italo. Lui è il fratello più piccolo che non era obbligato a farlo vanno con i partigiani Italo come partigiano Santiago dal nome della città in cui era nato e l'altro come no fantasia il fratello Floriano partigiano Floriano vanno con i partigiani loro non li vedono per tanto tempo e improvvisamente nel 1944 arrivano le SS e senza perdere tempo chiedono subito dove sono vostri figli? Loro non rispondono seconda volta dove sono vostri figli? non rispondono ben dati mani dietro la schiena e sentono quelle tre parole che durante l'occupazione tedesca uno poteva pensare che erano le ultime tre parole che sentiva perché queste tre parole sono pronti puntare fuoco fertig zielen fire l'hanno sentito tre volte non hanno parlato tolta la benda li hanno portati via Mario è stato 40 giorni in carcere non hanno mai detto dove erano i figli per fortuna dopo qualche mese la guerra finisce italo e floriano tornano a casa la famiglia si riunisce e a Sanremo sboccia di nuovo quella città dei fiori che loro stessi avevano creato quando sono tornati a Sanremo c'era stato un episodio che per me è il più importante perché quando erano a Sanremo e facevano anche lì quello che volevano fare con più interesse la ricerca il miglioramento delle piante addirittura il miglioramento genetico cosa di cui non si parlava ancora molto a quei tempi e lei era molto avanti anche in quello siccome era sempre una che faceva e disfava vi erano sempre i vendi a fate riendi improvvisamente vede che c'è un concorso per una cattedra a Catania partecipa lo vince e chiede di essere assegnata a Cagliari e l'assegnano a Cagliari e non solo e le danno anche l'ortobotanico di Cagliari una cosa incredibile ha avuto queste due cose nel 1926 così da Sanremo se n'è venuta a Cagliari ed è lì che l'ho conosciuta ed è lì che come vi ho detto ha cambiato l'ortobotanico che era Postumali di Areruzu dopo la grande guerra l'aveva cambiato da così a così ma ritorniamo a oggi oggi 7 novembre 1951 Mario è morto da due settimane Eva lo ricorda con una lettera che ci ha mandato da Villa Meridiana a Sanremo per me continuare il lavoro che da 32 anni si conduceva in collaborazione in un'armoria è un conforto lei si ricorda molto bene quel periodo con Mario lavoravano insieme oltre ad essere marito e moglie e ora è lei che ha in mano Sanremo io di Eva non so altro immagino felice lì a Sanremo ma so solo una cosa se un giorno la sua faccia sarà su un francobollo e il suo nome sarà in vie piazze e nome di scuole l'avrà meritato l'avrà meritato davvero per quello che ha fatto come scienziata per i figli che ha tirato su come mamma e per le persone e le città che ha aiutato come Santiago di Cuba Cagliari Sanremo e il coraggio che ha avuto come donna grazie Eva Mameli Asibiri Sabotanica Asibiri